Cosa succede tra i due ex volti di uomini e donne, Giorgio Manetti e Anna Tedesco? Un video sta scatenando i telespettatori, da anni convinti che tra loro ci sia sempre stato qualcosa di più di una semplice amicizia. In studio, c'è sempre stato il sospetto che i due fossero amanti. In particolare, Gianni Sperti più volte aveva palesato di avere questo dubbio. Ora sembra proprio che i due non vogliano più nascondersi. Giorgio e Anna, da diverse settimane, stanno condividendo sui social network video e foto, che li ritraggono felici insieme. Ma a scatenare oggi i fan è stato un video condiviso dall'ex dama. Anna ha pubblicato un filmato in cui appare spensierata con Manetti. In realtà, non ci sono baci o effusioni particolari in questo video. Eppure Giorgio e Anna si mostrano proprio come una coppia, mentre scattano foto, e mangiano al ristorante. Una bella amicizia che dura ormai da anni? Oppure è in corso una vera e propria relazione amorosa? I due ex volti storici di uomini e donne hanno sempre dichiarato di non essere una coppia, ma di essere semplicemente due grandi amici. Questo anche quando nel programma arrivavano segnalazioni sul loro conto. Gianni Sperti è stato uno dei tanti che ha sempre puntato il dito contro Manetti e Anna, sostenendo che i due fossero una coppia in gran segreto. Se così fosse, perché non dirlo? Molti credevano che fosse tutto frutto di un piano di Giorgio, per continuare a tenere l'attenzione puntata su di lui. Eppure questo nuovo video, mostra una coppia che si diverte a fare foto, e a trascorrere del tempo insieme. Sotto il post, sono tanti i telespettatori che palesano il loro disappunto, convinti che abbiano sempre preso in giro tutti, parlando di un'amicizia. Va precisato che queste sono, per il momento, solo supposizioni, in quanto Giorgio e Anna hanno sempre dichiarato di essere solo dei grandi amici. Da parte di entrambi, però, questa volta regna il silenzio. Infatti, nessuno dei due conferma, o smentisce. E da qualche mese, si parla di un eventuale ritorno di Manetti nel parterre. Che ne pensate? Anna e Giorgio hanno una relazione? Oppure si tratta di una bella amicizia tra uomo e donna? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Grazie!